Le vacanze, chi le faceva le vacanze prima? Non c'era la possibilità, non c'erano i soldi, non c'era niente, che vacanze si facevano? Niente proprio. Ecco, a San Vito Romano, il paese di mia madre e mio padre, magari eravamo ospiti di uno zio, stavamo una settimana, dieci giorni, basta così. Grazie.